Buongiorno dal Museo di Verucchio. Voglio innanzitutto ringraziare i colleghi del Museo delle Civiltà, il direttore Filippo Maria Gambari e Alessandra Serges per questa collaborazione che rientra nel programma di relazioni a distanza che Verucchio ha lanciato per la Museum Week. Aggiungo a loro per i ringraziamenti anche Gianfranco Calandra per il supporto tecnico. I colleghi hanno già contestualizzato storicamente il sito e i presupposti che legano Verucchio al Museo delle Civiltà, presupposti che da qualche anno sono rinnovati nello studio della collezione verrucchese acquisita a suo tempo dal Pigorini, di cui ha già parlato Alessandra Serges, formalizzati tramite una convenzione che ci auguriamo possa essere di spunto per nuovi percorsi di studio e valorizzazione. Questa relazione offre l'occasione per raccontare le varie attività di ricerca del Comune di Verucchio e del Museo, ripercorrendone le tappe principali e premettendo una brevissima considerazione. In quest'epoca così complessa per l'emergenza coronavirus, in cui tante cose sono state messe in discussione, per i musei grandi o piccoli che siano, sembra essere rimasto un punto fermo essenziale, che è la centralità del patrimonio come filo conduttore che suggerisce e orienta ogni proposta, al di là dei mezzi con cui viene diffusa. È il patrimonio che costituisce la specificità di ogni istituto, che ne orienta le scelte, stimola idee innovative, favorisce il dialogo con il contesto territoriale di riferimento e questo per tutti i cittadini può rappresentare il segno concreto e positivo che a un distanziamento fisico obbligato non equivale anche a un distanziamento culturale, che può comunque essere mantenuto vivo. L'esperienza del Museo di Verucchio è quella di un museo civico cosiddetto piccolo, che in realtà conserva un patrimonio consistente ed eccezionale dovuto all'importanza giocata storicamente dal sito, patrimonio che ha affidato alla cura di un piccolo comune, dove le scoperte fortuite e in seguito progetti sempre più strutturati di ricerca hanno orientato in modo incisivo la politica culturale locale, che ha saputo investire sull'archeologia, un piccolo territorio dunque con una grande responsabilità. La storia delle scoperte che si sono susseguite in questo luogo è piuttosto interessante anche come riflesso delle dinamiche che caratterizzarono l'evolversi degli studi in materia e la nascita e lo sviluppo delle istituzioni preposte alla tutela. Ovviamente noi ne citeremo qui soltanto alcune tappe significative, a partire dalle prime notizie sull'affioramento di sepolture e accremazioni che risalgono già agli inizi del 1600, in una cronaca verrucchiese del 1616, anche se in realtà le scoperte iniziano a concentrarsi nella seconda metà dell'Ottocento, quando di conseguenza matura anche l'interesse verso questo sito. E realmente la prima scoperta più significativa è quella avvenuta nel 1867 relativa ai due cosiddetti ripostigli di bronzi venuti in luce in un terreno in località Casalecchio di Verrucchio. Già intorno a questa scoperta vennero a convergere le attenzioni di cultori della materia come il rimenese Luigi Tonini e il figlio Carlo che per il territorio rappresentavano comunque un punto di riferimento in materia di antichità, ma si concentrò anche l'interesse dei primi paleotnologi e studiosi di livello nazionale, tra cui il conte Giovanni Gozzadini, autore dei primi scavi che dedero poi il nome alla civiltà villanoviana presso Villanova di Castenaso e lo stesso Luigi Pigorini. Maturò l'interesse anche di alcuni cittadini e collezionisti locali che vennero formando raccolte private come quella dei Pecci tuttora conservata e quella di Antonio Tondini che appunto si trova oggi al Museo Pigorini. Iniziò quindi a diffondersi la percezione di essere di fronte a testimonianze di una civiltà di grande interesse e non tardarono anche le prime indagini sul campo. I primi scavi vennero avviati in località Lavatoio, quella che fu poi riconosciuta come la necropoli villanoviana più antica e vennero condotti a più riprese nel podere Campo del Tesoro e nel Fondo Ripa, rispettivamente nel 1893 da Alessandro Tosi, un giovane riminese appassionato di archeologia e allievo di Edoardo Brizio, e nel 1894 dallo stesso Brizio per mano però di un altro assistente. Questa divisione dovuta forse a disaccordi personali tra il Tosi e il Brizio si riflette nella diversa destinazione che ebbero i materiali, quelli provenienti da Campo del Tesoro consegnati alla Galleria archeologica, che è oggi il museo della città di Rimini, che ne mantiene la proprietà, mentre quelli del Fondo Ripa giunsero al Museo di Bologna, di cui Brizio era direttore e dove tuttora sono esposti. Bisogna aspettare invece gli anni 60-70 del ventesimo secolo per inaugurare le vere e proprie grandi stagioni di scavo nelle necropoli di Verucchio, che maturano nella mente del soprintendente Gino Vinicio Gentili in concomitanza con l'intensificarsi dell'attività edilizia che aumenta le scoperte nel territorio. Gentili iniziò quindi le indagini nei terreni Moroni, Le Pegge e Lippi che costituiscono i sepolcreti villanoviani, nessuno dei quali finora è stato scavato per tutta la sua estensione e questo lascia prospettive interessanti per le ricerche future. Per quanto riguarda la necropoli Lippi, che rappresenta il sepolcreto più esteso a quanto oggi si conosce sotto alla rocca malatestiana, un aspetto interessante di queste campagne di scavo è legato non solo all'importanza dei rinvenimenti ma anche alla partecipazione cittadina che catalizzarono, come raccontano le immagini, la comunità locale iniziò proprio a raccogliersi intorno al cantiere di scavo e a prendere parte come ad un avvenimento eccezionale al recupero di quei materiali che Sergio Sani, assistente di Gentili, veniva tirando fuori dalle tombe, lavorando in condizioni anche precarie per la profondità dei pozzetti e l'abbondanza di acqua in cui erano letteralmente immersi i reperti. in sostanza intorno a questa attività di ricerca si vennero creando i presupposti per la nascita di una politica locale in grado di investire sul patrimonio come risorsa per lo sviluppo culturale e sociale del territorio con risvolti turistici ed economici che negli anni a seguire vennero mano a mano crescendo. I tempi per la nascita di un museo divennero maturi a partire dagli anni 80 quando l'amministrazione avviò la ristrutturazione dell'ex convento di Sant'Agostino per farlo un centro culturale che in realtà nell'aprile del 1985 fu inaugurato come museo archeologico con una prima sala che esponeva una selezione di corredi dalla necropoli Moroni. Scrisse in proposito l'architetto che curò i lavori la verrucchese Giovanna Giuccioli il museo è stato voluto soprattutto dall'amministrazione e dalla popolazione locale che nei continui ritrovamenti archeologici vedono parte della loro storia. Un vero e proprio progetto strutturato di ricerca di studio delle necropoli è stato avviato in realtà a partire dal 1992 in base a un accordo fra comune di Verucchio e soprintendenza per i beni archeologici di Bologna e coordinato da Patrizia Foneles funzionario della soprintendenza alla quale dal 1995 fu affidata alla direzione del museo che nel frattempo si era rinnovato raggiungendo la sua attuale estensione. La mission del museo è da sempre basata su tre parole chiave conservare, conoscere e comunicare che correlano tra loro in modo indissolubile le attività di restauro e conservazione dei materiali imprescindibili, la ricerca scientifica anch'essa fondamentale e l'impegno a comunicare i contenuti a tutti, non solo agli addetti ai lavori quanto ovviamente nella natura stessa di un museo. Al centro sta quindi il patrimonio con i suoi contenuti che ispirano ogni iniziativa del museo in un dialogo costante tra ricerca e comunicazione. Naturalmente si tratta di una sfida piuttosto complessa, soprattutto in relazione alla natura specifica del patrimonio di Verucchio che si caratterizza per la presenza di una grande quantità di oggetti realizzati in materiale organico che difficilmente si rimvengono in perfetto stato, che richiedono condizioni di conservazione molto impegnative e che comunque a Verucchio permettono di ricostruire in modo esemplare aspetti della cultura materiale antica, altrimenti noti solo per via indiretta. Ci riferiamo agli arredi in legno come tavolini, sgabelli, troni decorati ad intaglio e dipinti, in alcuni casi contenitori ed elmi invimini, offerte alimentari di natura animale e vegetale e soprattutto l'incredibile collezione di tessuti prevalentemente in lana, con tuniche, mantelli, abiti di varie forme e tinture, oltre al ricchissima quantità di gioielli in ambra che fece la fortuna di questo villaggio. Dal 2005 il Comune decise di intraprendere una nuova avventura di scavo, grazie anche al sostegno da parte della provincia di Rimini e naturalmente della soprintendenza archeologica che ha condotto le campagne di ricerca nella necropoli Lippi fino al 2009 con la direzione della funzionaria Patrizia Foneles. Si è trattato di una esperienza molto impegnativa e certamente innovativa per diversi aspetti. Innanzitutto per il sistema di trasmissione in diretta internet di tutte le fasi di scavo che ha dato anche una notevole risonanza in termini di visite virtuali sui siti dedicati, ma che nello stesso anno 2005 ha permesso anche di registrare un record assoluto negli ingressi in museo, segno appunto che questo dialogo continuo tra ricerca e comunicazione funziona. Inoltre le campagne di scavo hanno avuto un'importanza notevole anche dal punto di vista didattico, poiché sono state aperte alla partecipazione di numerosi studenti di università italiane, europee e non solo, coordinati da archeologi esperti che hanno collaborato a tutte le fasi di lavoro, dallo scavo alla documentazione, vivendo quindi un'esperienza di formazione davvero interessante. Non ultima è naturalmente l'importanza scientifica delle indagini legata alla metodologia di scavo applicata, molto accurata, che ha favorito quindi il raggiungimento di un alto livello di documentazione grafica e fotografica, di registrazione dei dati, consentendo di rileggere i vecchi scavi alla luce dei nuovi e di acquisire quindi informazioni dettagliate fondamentali per la ricostruzione del rituale funerario nel contesto verrucchiese e naturalmente con tutte le opportunità conseguenti in termini di divulgazione di questi dati. Anche il restauro ha rappresentato e rappresenta tuttora un aspetto essenziale del progetto per la conoscenza di aspetti tecnologici e funzionali sui materiali, oltre che per la possibilità successiva di metterli a disposizione del pubblico, come poi è avvenuto in occasione di mostre e anche di ampliamenti dell'allestimento permanente del museo. In realtà quello della conservazione dei materiali costituisce un impegno costante per la necessità di garantire il mantenimento di diverse tipologie di reperti negli ambienti espositivi con determinate problematiche dal punto di vista della temperatura e dell'umidità a cui occorre far fronte costantemente. Naturalmente questo lavoro vede in prima fila la soprintendenza, prima quella di Bologna e ora quella di Ravenna, a cui spetta la tutela dei materiali con cui si lavora in sinergia nell'obiettivo comune di preservare questo delicato patrimonio. Attualmente non sono in corso attività di scavo mentre prosegue lo studio dei materiali grazie al gruppo di archeologi e studiosi che supporta il museo e grazie anche ai laboratori estivi che tuttora vengono realizzati e aperti a studenti, spesso organizzati in collaborazione con università, laboratori specializzati su alcune classi di materiali. Uno di questi laboratori riguarda ad esempio lo studio delle terre di Rogo, in generale dei resti archeobotanici, studio che è stato possibile avviare grazie ad una collaborazione con il laboratorio di archeobiologia di Como diretto dal professor Mauro Rottoli, che ha seguito queste ricerche anche attraverso alcune tesi di laurea. La prima fase di flottaggio dei campioni dalle tombe scavate nella necropoli Lippi viene realizzata in occasione dei laboratori estivi attraverso specifici setacci e anche grazie al coinvolgimento di alcuni residenti appassionati all'attività del museo che possono partecipare a queste fasi meno complesse e una forma di archeologia pubblica che naturalmente in un contesto come Verucchio può rappresentare una risorsa aggiuntiva oltre che essere espressione della mission del museo per il suo territorio. Ovviamente le fasi più specifiche di analisi dei microresti proseguono nel laboratorio con la strumentazione necessaria restituendo informazioni importantissime. Altrettanto fondamentale è stato anche il progetto che ha riguardato i tessuti realizzato a partire dal 1994 in collaborazione con la FACO Schule di Colonia e coordinato dalla professoressa Ne Maria Stauffer che si è fatta carico dello studio, del restauro e delle analisi dei tessuti provenienti dalle tombe maschili di Verucchio mentre quelli delle tombe femminili sono ancora da indagare. Si è trattato di un lavoro lungo e complesso conclusosi nel 2012 con il ritorno dei mantelli e degli altri tessuti a Verucchio che ha riguardato anche la ricostruzione delle tecniche di tessitura impiegate per gli abiti e per i loro bordi con la proposta di utilizzo di alcuni utensili per la tessitura a tavolette e non solo e che ha anche permesso l'arrivo di vetrine apposite per l'esposizione di questi tessuti in particolare dei due grandi mantelli della tomba del trono. Questo continuo dialogo tra ricerca e comunicazione dei dati che il museo cerca di mantenere vivo per raggiungere ogni tipo di pubblico spiega anche la scelta recente di dotare il museo appunto di due strumenti diversi di pubblicazione dei dati, una rivista scientifica online Arimnestos e una collana didattica, i quaderni villanoviani, che nascono proprio da questa esigenza di approfondire percorsi tematici particolarmente sentita dagli insegnanti. Esperienze queste che appunto mettono ancora in luce questo costante dualismo fra ricerca e pubblico. Grazie per l'attenzione.